Il lavoro idile nei cantieri, esigenza di legalità e proposte di legge per un settore trasparente e sicuro. Si intitola così l'iniziativa che la Fillea CGL ha organizzato per oggi nei luoghi della ricostruzione post-sisma. Una giornata per riportare l'attenzione sui lavoratori che da dieci anni sono impegnati nei cantieri del catere sismico. Non soltanto un bilancio dell'attività del settore idile a dieci anni dal sisma del 6 aprile 2009, ma anche la richiesta di modifiche normative a livello regionale e nazionale per garantire un lavoro trasparente e al sicuro dalle infiltrazioni mafiose e dalle irregolarità. Due le proposte di legge di cui si farà portavoce la Fillea CGL. Consistono nell'introduzione della congruità e nella sua generalizzazione. All'Aquila noi l'abbiamo avuta fino al 2017, ha funzionato permettendo di far emergere molti lavoratori che sarebbero stati se no al nero. Ovviamente è venuta meno perché è legata alle ordinanze commissariali, noi vogliamo che invece sia uno strumento ordinario e non solo di fronte a eventi straordinari come può essere una ricostruzione. Secondariamente noi chiediamo ovviamente l'obbligatorietà delle notifiche preliminari. C'è una contraddizione nel nostro paese che magari una pubblica amministrazione, penso la ASLA, abbia delle informazioni, l'ispettorato del lavoro ne abbia altre. Invece permettendo la generalizzazione delle notifiche preliminari tutti sanno tutto e quando c'è trasparenza di solito c'è anche più legalità. Entrambe le proposte di legge sono ritenute strumenti fondamentali dalla Fillea CGL per combattere le infiltrazioni mafiose sempre in agguato. Il lavoro nero è definito un reato spia. Di solito dove vi è irregolarità sul lavoro, dove vi è mancanza di sicurezza, ovviamente può essere più facilmente infiltrazione. Oggi le infiltrazioni però hanno forme anche diverse, si va dal distacco internazionale alla fornitura dei materiali. Da questo punto di vista quindi una legge regionale che mette in trasparenza il lavoro, aiuta anche a mettere in trasparenza tutto ciò che vi è direto il lavoro, dalle forniture ai materiali appunto. Occhi aperti della Fillea CGL abruzzese sul lavoro irregolare, vera e propria anomalia nell'edilizia. Per noi però riconquistare l'indice di congruità di manodopera nei cantieri, cioè il DURC per congruità, un numero congruo di lavoratori certificato in base all'importo lavori dell'appalto è fondamentale. E noi oggi lanciamo anche una proposta a questo punto di legge regionale per riavere il DURC legato alla congruità di manodopera, che secondo noi potrebbe essere uno strumento che ci farebbe migliorare quel dato di grigio, di nero, che purtroppo è presente, non possiamo stimarlo in maniera specifica, percentuale.